Bouchard è una società francese specializzata in attrezzature subacquee. Mentre l'azienda è principalmente conosciuta per i suoi prodotti subacquei, in particolare le mute, le pinne e le maschere, Bouchard produce anche una linea di orologi subacquei di alta qualità. La storia degli orologi Bouchard risale agli anni Sessanta, quando la società ha iniziato a sviluppare orologi specifici per le immersioni subacquee. Gli orologi Bouchard erano stati appositamente progettati per resistere alle pressioni dell'acqua a profondità estreme, offrendo ai subacquei una strumentazione affidabile per tracciare il tempo sotto l'acqua. Il primo orologio da sub Bouchard, il Marlin, è stato lanciato nel 1963, ed è diventato un successo immediato, grazie alla sua precisione e alla sua robustezza. Da allora, Bouchard ha continuato a sviluppare una vasta gamma di orologi subacquei, che si adattano alle esigenze di subacquei di ogni livello di esperienza. I modelli di orologi Bouchard includono il Chronograph, un orologio subacqueo dotato di un cronometro, e il Mundial, un orologio subacqueo resistente all'acqua fino a 200 metri. Inoltre, Bouchard offre una gamma di accessori per i suoi orologi subacquei, tra cui cinturini in neoprene e braccialetti in acciaio inossidabile, per garantire che i subacquei possano personalizzare il loro orologio subacqueo in base alle loro preferenze personali. In sintesi, gli orologi Bouchard rappresentano una scelta eccellente per subacquei che cercano un orologio subacqueo affidabile e di alta qualità. Grazie alla loro precisione, robustezza e design ecologico, gli orologi Bouchard sono una scelta eccezionale per subacquei di tutti i livelli di esperienza.